Una serata dedicata allo sport, la passione vostra, la montagna, innanzitutto come è nata questa idea? Ma è parecchi anni che facciamo in occasione delle feste natalizie, queste serate, è un momento di incontro tra i nostri soci, un momento di brindirsi, uno scambio di auguri, nel frattempo proponiamo anche un evento particolare, in questo caso una serata della montagna su un alpinista che ha fatto l'Everest. Mentre negli anni precedenti abbiamo avuto personaggi importantissimi nel mondo dell'alpinismo, sopra di tutti c'è Cassin e poi naturalmente il nostro amico Mario Merelli che ha fatto diverse serate in occasione delle sue spedizioni agli 8000 che ha fatto, quindi è un momento sì di incontro ma anche di illustrarci un po' gli occhi su quelli che pochi riescono a fare e noi lo sogniamo solo. Chi sarà l'ospite di quest'anno? L'ospite di questa serata è Davide Chiesa, un alpinista di Piacenza che mi ha interessato perché ha fatto un filmato particolare sulla sua salita all'Everest, diciamo in diretta si è filmato sulla sua salita dal campo base fino in vetta, sono 50 minuti di filmato e si vedono le emozioni che ha vissuto lui durante tutta questa salita. È un personaggio forse sconosciuto qui in zona, comunque l'abbiamo visto, spezzoni della sua avventura l'abbiamo vista sulla TV7 di Conlicia Colò, quindi mi ha preso e l'ho contattato e abbiamo organizzato questa serata. Si sta concludendo il 2023, che anno è stato per la vostra società? Ma è stato un anno diciamo nella norma con alcuni acuti nel campo dell'atletica ma diciamo che il nostro obiettivo è quello di portare lo sport nei ragazzi, infatti abbiamo un numeroso gruppo di atleti giovani e questo è il nostro scopo. Dopo benvengono anche i risultati, abbiamo avuto un campionato italiano staffetta nella categoria master e questo ci ha dato lustro. Potevamo avere un rappresentante anche ai recenti campionati europei di corso a campestre ma scelte politiche hanno escluso il nostro validissimo atleta che aveva vinto due prove di selezione, però speriamo che continui con lo stesso entusiasmo. Sarà un'occasione anche per premiare qualcuno di speciale della vostra società? Sì, il trail è un campo che ci intriga molto per cui quest'anno abbiamo avuto due nostri atleti che hanno fatto il Tour de Jeanne, Fornoni Giovanni con 103 ore e Pinto Guido di Bergamo con 140 ore quindi tempi di tutto rispetto, già il fatto di terminare la gara per chi la conosce è già un traguardo importantissimo. Li premiamo per questa loro passione, per questa loro voglia di camminare superi monti daremo piccolo riconoscimento perché tutti sappiano anche di questa loro avventura.